Non si capisce da dove vieni? Guarda, credo che non ha più neanche le radici dove sia caduto una e sicuramente non si può fare Adesso la vediamo dall'esterno Mi chiedono che l'aula lì è chiusa Ci vuole probabilmente? Allora Allora, vedi? Quelle finestre Ah, iniziano Tutte quelle aule lì Sono tane di piccioni Perché non si chiudono più bene Durante l'estate non sono state chiuse Anche i latidi 1, 2, 3, 4, 5 Sopra anche Ok, io vado perché